come mi metto i banchetti mia due si il pare in frente vieni logo 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 vai 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 mi respiro vai devi stare molto costoso va va qui va logo logo vai in frente va 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 si lì qua va 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 allora seppi per la 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 faccio 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 12 13 13 13 13 Grazie. Ok, ok, ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.